Questo è FanRelax, ciao a tutti io sono Diego, il nostro servizio di linea di Pullman è non solo, nel senso che noi abbiamo nel pacchetto le macchine, le limousine, che potranno sicuramente aiutarvi per vivere in totale relax le vostre serate. Per accedere a questo servizio noi abbiamo creato una rete di locali che hanno partecipato attivamente a questo progetto. Accedendo a questi locali voi avrete la possibilità di acquistare il biglietto a 5 euro invece che a 6 sul Pullman. Questo ovviamente per facilitare un discorso di preserata nel locale che è convenzionato. L'idea è nata per quanto mi riguarda qualche anno fa nel 2007 quando ho avuto un'esperienza di lavorativa a Ibiza. Ibiza è gestita in maniera sicuramente forte dal punto di vista organizzativo perché c'è un servizio di Pullman per portare i giovani nelle discoteche. Da lì ho detto ma perché non danno le nostre parti? Bustarsizio, Castellanza, Legnano, San Vittorio sono dei posti che hanno la possibilità sicuramente di sviluppare un discorso del genere perché ci sono discoteche locali che potrebbero comunque disporre di un servizio del genere per i loro clienti. Ci potete contattare sul nostro sito internet www.fanrelax.it o sulla nostra pagina Facebook Fan e Relax con l'e-commerciale. Sicuramente noi risponderemo al numero 342 8067 194. Sicuramente noi risponderemo al numero 342 8067 194. Siamo qua con Mauro Brazzelli, il titolale della Leonardo Tours SRL, la società di noleggio Pullman con Conducente che porterà noi ragazzi, noi giovani nei locali e nelle discoteche. Volevo chiederti Mauro, tu come parte integrante di questo progetto perché ti sei inserito con questa iniziativa? Cosa è che credi? Per creare un servizio notturno per tutti i ragazzi, evitare incidenti, abbiamo anche un'altra società che ci aiuta in questo servizio che è la Jumpy Tour. Sì, niente, io appunto il titolare della Jumpy Tour do una mano a Mauro, sono stato chiamato da Mauro per creare un discorso di collaborazione, un discorso di servizio a 360 gradi. Anche Giuseppe Grassi che con la sua ginoleggio invece gestirà il discorso delle macchine. Penso che sia una cosa seria e inoltre una cosa nuova in queste zone qua, della città di Legnano, Busto e Castellanze, San Vittorio Rolona. Penso che sia un progetto nuovo da lanciare. Volevo chiederti Veronica, cosa ne pensi del nostro servizio Fan Relax? Il servizio Fan Relax secondo me è una buona proposta, un'iniziativa giovane e che ci voleva secondo me in Italia, visto che comunque all'estero queste iniziative sono già in voga da tempo e da tempo. È giusto che ci sia un servizio di navetta, di pullman, di taxi, a prezzi giustamente economici che tutti si possano permettere ed evitare le stragi del sabato sera, del venerdì, della domenica, del weekend in genere. Quindi il Magriff è contento di aver aderito a un'iniziativa così intelligente. Abbiamo anche una collaborazione per la festa delle donne l'8 marzo. Vuoi spiegare magari a tutti quelli che ci seguono che cosa comprende questa collaborazione? In quella serata il Fan Club Relax ha messo a sua disposizione il servizio pullman gratuito per tutte le donne, facendo logicamente il suo percorso nelle città limitrofe e portando qui le ragazze per godersi la serata al Magriff in cui ci sarà il grande e speciale Rocco Siffredi. Grazie Veronica. E voi cosa fate l'8 marzo? Venite con noi? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.